Musica Ben trovati a Sport News, iniziamo occupandoci di calcio e del campionato di eccellenza. La capolista Civitanovese supera anche il test Montegiorgio e rimane al comando della classifica. Nella ventitresima giornata del campionato, gli uomini di mister Alfonsi scendono in campo con l'atteggiamento giusto. Passa solo un minuto infatti e Spagna di sinistro fa 1-0. Gli adriatici continuano a spingere e Buonavoglia chiama Folconeri al miracolo che evita il 2-0. Poco prima della mezz'ora il Montegiorgio vede annullarsi un gol per fuorigioco di Rossoni. La Civitanovese pensa bene di mettere al sicuro il risultato, così Strupschenki da corner trova l'inzuccata vincente che vale il 2-0. La Civitanovese porta via dal Tamburrini altri tre punti che le consentono di rimanere a più 2 sul Montefano. La squadra sale così a 43 punti in classifica. Allo stadio La Croce di Montegranaro va in scena un match che mette in palio punti importanti in chiave e play-off. Si affrontano Montegranaro e Maceratese, squadre divise da un solo punto in classifica. Una Maceratese-Sciupona esce sconfitta contro un Montegranario che grazie ai tre punti aggancia la zona salvezza. Occasione di sorpasso persa invece per i Biancorossi che dopo un'altra sconfitta esterna vedono ora la zona play-off a tre punti di distanza. Una vittoria che sa di ossigeno, quella colta dal Tolentino contro il Monturano Campiglione tra le mura amiche. Si tratta del secondo successo per gli uomini di Possanzini sulle otto giornate del girone di ritorno sin cui disputate. Un girone piuttosto sfortunato per i tolentinati che sono passati dal sognare l'inglesso nella zona play-off a temere di venire risucchiati in quella play-out. Ad andare in gol nel 2-0 finale sono stati Borrelli e Balbo. Considerato il grande equilibrio del campionato entrambi gli scenari non sono ancora da escludere. Di certo molto deciderà il derby in programma settimana prossima contro la maceratese all'Elvia Recina. L'era decima giornata di ritorno gli uomini della Lughe Civitanova lottano con tutte le forze nello spareggio anticipato con la Gass-Sales-Blue Energy-Piacenza. Ma ad imporsi in 3-7 sono gli emiliani che si portano a più tre in classifica collocandosi sul terzo gradino del podio. Ma scopriamo di più sulla partita di ieri nel servizio con le interviste di fine gara. Credo che queste partite qua tu non ti puoi permettere di non sfruttare le occasioni che hai. La sensazione che ho è di aver perso un'occasione. Nel senso che i primi due set pur con dei difetti come hanno tutti ce la siamo giocata secondo me bene. Però siamo mancati poi nei finali, siamo mancati in incisività con la battuta nei punti importanti. Non in totale perché poi alla fine il numero degli errori... Però loro hanno avuto un po' di cattiveria in più per chiudere i primi due set. Poi il terzo è iniziato in maniera un po'... Eravamo un po' scossi dal primo che è il secondo di nuovo e ci abbiamo messo un po' a rientrare anche con qualche cambio. Però insomma non è stato sufficiente. Però soprattutto i primi due set è molto rammarico per i primi due set perché facendo un po' meglio un paio di cose secondo me poteva essere una storia diversa. È stata una partita nostra molto bella. Le occasioni non le abbiamo approfittate ma niente. Adesso si tocca ripartire e pensare alla Champions che è la prossima partita che è molto importante. Vittoria molto importante per la CBF Balducci HR che supera 3-2 al Banca Macerata Forum la futura Giovani Busto Arsizio, vice capolista della pool promozione e ottiene il secondo successo di questa seconda fase di Serie A2. Avanti 2-0 le arancionere subiscono la rimonta delle lombarde, ma poi con una grande prestazione di squadra ritrovano tutte le energie nel tie-break portando a casa la vittoria che vale la salita quota a 48 punti in classifica. Dal volley femminile al basket perché la rutta nel San Severino dopo la sosta vince ancora. Stavolta fuori casa e a spese dei cugini di Mattelica portando il record di coach Campetella a due vittorie ed una sconfitta dopo il suo arrivo in panca. Niente male per una squadra che vanta appena 4 partite vinte nelle precedenti 13 gare di campionato. La Rutten ha chiuso così il confronto sulle 72-63 in proprio favore ed ora attende il duo di partite intense consecutive con Pedaso ed Ascoli con animo sereno. Venerdì prossimo 1 marzo alle ore 21.45 al Palace Ciarapica, Rutten e Pedaso con la consapevolezza da parte di Capitan Cruciani e compagni tornati in gruppo coeso che gioca con il sorriso e fa la difesa l'arma migliore. Con quest'ultima notizia di sport e termina anche questa edizione odierna del nostro Tg. Grazie come sempre per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.